Sono molto contento, la verità si è fatta strada e in questi mesi non ho mai usato parole, non ho mai cercato di sfuggire, ho seguito fino in fondo con rispetto e fiducia, rispetto e fiducia nella magistratura e nella giustizia e ci ho messo la faccia a tutela del mio onore, dell'onore della regione che rappresento, oggi c'è una sentenza chiara e inequivocabile e questo mi fa piacere, voglio anche ringraziare tutte le persone che in questi giorni, in questi mesi hanno voluto esprimere solidarietà, vicinanza, credo che sia un risultato importante e adesso bisogna lavorare, bisogna lavorare per questa regione, per questa straordinaria regione e per affrontare i tanti problemi che abbiamo davanti.